Ma dai, ma guardalo, come non muore Leo, sto tutti zitti, Leo, fai come fa la mamma di killer quando lo prendo solo, come una pecora Marco, entra, muoviti, che le nove e mezzo devo spegnere Ma guarda, Leo No, scimmia E sto sponando No, via, paga, pucca di killer black Non mi bastano quattro centimetri Guardalo, sicuro Ti cadesse la no Ma stai zitto, Marco, entra Marco, entra Mi è finito nella vita online Ma come faccia? ciao mi chiamo manola sono la mamma di killer black come manola mi piace fare pompini sono la troia di tutti i bambini a me è entrato secondo me quando tu mamma fa un pompino va a 367 km orari l'hanno fatto a qualcuno a chilometri veloce cosa bella come fa la marco di modi ecco non fa la pocurella come fa tua sorella pure la piccola la piccola l'ho sai che faccio io la cosa migliore campero bravo essi essi raga posso chiedermi una cosa avete tolto che si può registrare la voce no io io qui che fa raga raga io adesso posso caricare il mio video sul canale andate tranquilli bm adventure primo episodio poi voglio vedere gli altri